ciao ragazzi un saluto da luca mastrangelo e camilla spinelli allora benvenuti a questa seconda puntata ufficiale dei gemellati bentornata camilla grazie mille è sempre un piacere essere qua con voi com'è andata la settimana direi abbastanza bene per te direi che ci è andata molto bene siamo passati in coppa italia abbiamo vinto in campionato meglio di così non poteva andare così direi proprio che non ti poteva andare come stai e diciamo che dopo la vittoria contro la juve speravo in qualcosina di meglio speravo insomma ma veniamo a noi veniamo alle nostre domande ricordo ai nostri amici a casa che comunque questo video verrà ripostato in settimana anche sul mio canale youtube e nei commenti nel mio canale youtube sotto al video fateci tutte le domande che volete quasi tutte noi nella prossima puntata di dei gemellati vi risponderemo ma veniamo subito a te camilla parto subito con te domanda per entrambi da parte di gabriele tardini si chiama come lo stadio di parma tardini per entrambi qual è il gesto più folle che avete fatto per amore della vostra squadra non mi sono presentata ad una verifica perché dovevo andare allo stadio e i tuoi genitori come l'hanno presa mi hanno accompagnato ma come sono stati complici certo doveva andare a roma vedere e la catalanta tra l'altro che l'abbiamo pure persa il papà alassiale ha detto ma chi se ne frega tra l'altro era maggio quindi erano proprio le ultime verifiche quelle importanti ho detto no non posso non mancare quindi ho fatto questo perché cosa hai fatto io invece una volta anniversario di fidanzamento di cinque anni con una mia ex non l'abbiamo festeggiato perché io dovevo andare a vedere un orripilante interpiacenza zero a zero quindi lei come l'ha presa malissimo infatti non stiamo più insieme chissà perché non stiamo più insieme però io ho messo davanti ai cinque anni di fidanzamento il lustro di fidanzamento interpiacenza zero a zero ma neanche che ne che ne fosse vabbè penso se perdavate vabbè ma già interpiacenza zero a zero come avete esatto allora vado io ci fa la domanda j o 5 j o 5 ok domanda per luca credi che l'inter entro dieci anni riuscirà a giocare una semifinale in champions lo spero sicuro credo un po meno ma dai voglio essere positivo credo di sì perché altrimenti se pensassi di no veramente dieci anni sono talmente tanti e come faccio a pensare di non giocare ma anche una semifinale in dieci sì sì credo di poterlo fare mi piace poi magari non ci arriviamo però vabbè martin ravasio ci chiede 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 domanda non calcistica si vede il bel rapporto che avete luca cosa invidi caratterialmente di camilla camilla cosa invidi caratterialmente di luca vai prima tu allora vado prima io di luca invidio tantissimo il suo essere molto estroverso tra l'altro secondo me è divertente senza sforzarsi è praticamente un attore nato e glielo invidio parecchio perché io non sono una persona divertente di mio quindi almeno c'è lui che compensa anche in questo video ma dai io sono un po siamo diversi ma io a camilla invidio invidio la presunta poi non so se è proprio sempre così però la presunta calma sì io sono sempre così una ragazza molto calma sì sì cosa che io invece non sono io mi nervosisco mi arrabbio abbastanza facilmente poi mi come mi incazzo facilmente mi scazzo facilmente però non ho la tua calma tu invece mi sembri molto io sono molto calma anche le mie amiche quando sono arrabbiate mi chiamano io lesbo poi io sono così non mi fortifica la cosa ma ma ci credo vai con la domanda vado allora daniele vettori ti chiede cosa ti viene in mente quando pensi all'inter perché tipi questa squadra e cosa faresti per far arrivare l'inter in prima posizione ps viva l'inter e grazie per tutti i sorrisi che mi fai fare allora daniele queste sono tre domande cosa ti viene in mente quando pensi all'inter passione se in questo istante se in questo istante penso cosa mi viene in mente quando penso all'inter ha veramente gli anni che ho fatto andando a san siro da forlì veramente tantissime partite non so quantificarle le ore di pullman andare a tornare questa è la prima cosa che mi viene in mente in questo istante se penso all'inter poi com'è che prosegue scusa poi ti chiede perché tifi questa squadra e cosa faresti per far arrivare l'inter in prima posizione beh io purtroppo non posso fare nulla per far arrivare l'inter in prima posizione non ho questo potere però perché sono dell'inter perché io sono originario di un paese della provincia di forlì che si chiama civiltà la di romagna la mia classe era suddivisa fra interisti e milanisti con un paio di juventini e basta e io avendo il papà interista molto più blando di me molto meno acceso però interista ho scelto di stare per la fazione della della mia classe a scuola che patteggiava per l'inter e quindi per questo motivo ho deciso di fare per l'inter stato tutto a scuola si fondamentalmente si papà interista e gruppo di amici con quello più legato interisti e quindi ho deciso di patteggiare per quella parte domanda per camilla ma qui andiamo un pochettino più sui gusti personali con chi usciresti della latio fra immobile correa questo qui lo dico ma anche se so che non ha possibilità poverino mai stracoscia vabbè correa per forza ma ma allora ciruzzi è sposato ha dei figli io non sono una di quelle persone che va e non è una rovina famiglia no non lo so non sei correa non c'è come vanda nara sei una che quando sei come vanda nara correa era fidanzato non so se lo è ancora e tra l'altro l'ho incontrato dopo spettia lassio e quando mi ha visto stava mangiando una crostatina si stava per mi stava mandare di traverso si hai mandato la camilla ha mandato la crostatina di traverso a correa è inciampato su un sasso e in tanti stava e se l'hai fatto inciampare e gli stai facendo andare di traverso la crostatina si quindi secondo me ci sono un po di speranza e stracoscia cioè andiamo ad un appuntamento stracoscia me lo bocci sempre per qualsiasi cosa stracoscia secondo me andiamo ad un appuntamento è sempre lì che si sistema i capelli e ciancica la gomma secondo me non mi dice neanche niente quindi corre assolutamente domanda per me mai allora gabriele tardini ti chiede quale giocatore della storia della lazio vedresti bene in questa inter non vale dire giocatori che hanno giocato anche nell'inter tipo stankovic eccetera di questa lazio e della storia della della storia a della storia della storia beh io c'è un giocatore della lazio per cui andavo patto ai tempi che mi piaceva tantissimo che secondo me era veramente forte io avevo un debole per allen boxic boxic veramente era un giocatore di quelli aveva una porta fisica fantastica non so quanto magari ci sarebbe sarebbe andato bene in coppia con lukaku però è un giocatore che mi ricordo quando all'epoca di boxic io dicevo sempre come mi piacerebbe averle averlo all'inter quel giocatore e purtroppo non siamo mai non siamo mai riusciti ad averlo ma non si può avere tutto stava meglio da noi dai Antonio rida si camilla come è nata la tua passione per la lazio allora antonio molto semplicemente mio padre è di roma è giustamente laziale perché a roma c'è c'è una squadra poi ma ce n'è anche un'altra no qual è lì quei colori giallorosi si vabbè ma non la conosco in ogni caso ok diciamo che me l'ha un po passata anche se in realtà non mi ha mai spinta a tifare la latte per forza per esempio tutto il resto della mia famiglia era milanista quindi tu giustamente hai detto ma perché hai fatto bene e mi dicevano sempre se diventi del milan e vai allo stadio ti danno le caramelle gratis i palloncini facevano già i bugiardi guarda un po come me con mio fratello te la faccio breve io quando fra me e mio fratello ci sono 12 anni di differenza mio fratello è 12 anni più piccolo quindi quando mio fratello aveva 12 anni io ne avevo già una ventina no già avevo già un bel bello grandicello quando mi portava 10 anni non ho 22 cioè quindi vedi tu io per convincere a tifare per l'inter gli dicevo daniele di forza juve diceva forza juve io gli davo un pizzicotto un toccone dicevo vedi che fa male dire forza juve e quindi è diventato interista se lo facessi adesso questo gioco mi riempirebbe di botte perché mio fratello è fisicamente il doppio di me non posso più fare queste cose però sono riuscito nell'obiettivo è diventato interista quindi va invece i miei familiari non ci sono riusciti e sono diventata laziale di mio mi piacevano i colori giocatori meglio la lazio che in me direi proprio domanda per camilla mai cosa hai pensato il 5 maggio quando la lazio vinse contro l'inter e fece perdere uno scudetto all'inter ragazzi 5 maggio 2002 ero lì che mi ciucciavo il pollice e una bambina quanti anni avevi neanche due anni anche due anni quindi camilla non può rispondere a questa domanda mi dispiace per questa cosa noi noi abbiamo fatto di tutto per farvi vincere niente caro j05 che ha fatto questa domanda ti rispondere io ma rispondi che la domanda è su camilla ma rispondi a te cosa ho pensato ho pensato che io ero a roma ero all'olimpico me la sono vista da un vino me la sono vista in diretta e veramente è stata sportivamente parlando la giornata più tragica della mia vita ho vissuto in diretta probabilmente la sconfitta più cociente dell'inter degli ultimi secondo me 30 anni non so non credo che negli ultimi 30 anni ci sia stata una sconfitta che ha fatto più male di quella un interista io me la sono vista me la sono vista dall'ultimo abbiamo discorso quando sei tornato a casa come stai che faccia avevi eri in silenzio stampa mi ricordo la carovana dei pullman eravamo 30 40 mila interisti all'olimpico e mi ricordo il pullman a tornare a casa non volava una mosca ci guardavamo tutti inebetiti con la faccia come se fossimo degli zombie cercando conferme guardandoci la serie è successo veramente si è successo veramente questa cosa e siamo stati davanti tutto il campionato e l'abbiamo preso all'ultima è incredibile grazie per questi bei ricordi effetti potevamo risparmiarci acquistava che ho preso la bussola vai tu domanda me allora paolo di giambattista ti chiede eto o lukaku eto sapete che io sono un grande fan di lukaku è un giocatore alla quale sono affezionatissimo voglio un gran bene a lukaku però eto oltre è che a essere un fuoriclasse completo è anche un eroe del triplete quindi è uno di quelli che ha contribuito attivamente a farci vincere il triplete auguro a lukaku ea me di arrivare a fare lo stesso però lukaku posso dire che è meglio di tanti altri però se me lo separiamo di samuel eto dico eto e secondo me se ci fosse qui davanti lukaku non se ne avrebbe neanche a male stiamo parlando di un giocatore talmente forte che secondo me mi darebbe ragione anche luca mi darebbe allora come si pronuncia questo perché i nostri amici hanno dei nomi come si pronuncia sasquatch 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 domanda per camilla vai levata la rivalità calcistica pensi che la roma sia una buona squadra che voto gli daresti ma allora riguardo a questa stagione qua fino a qualche partita fa direi di si era forse una delle migliori in campionato adesso si dai si stanno riprendendo un po dopo la battuta però oggi con questa faccia un po snob della sera ma mi fate parlare di sta squadra che io non ho tempo da perdere fanno una fatica anche con lo spezia ancora hanno vinto però ragazzi allora pensa all'assurdo ieri se la roma se la roma avesse perso con lo spezia si parlava di esonero di sicilia e ancora pare che sia sulla graticola però se uno arriva da marte guarda la classifica la roma è terza se il suo obiettivo arrivare fra le prime quattro quindi in questo momento è ampiamente dentro all'obiettivo secondo me il derby influisce molto sulla prestazione dei giocatori nelle partite successive perché comunque un conte magari perdi 1 a 0 la puoi pareggiare però perdere 3 a 0 la trambata del derby la sentono ancora non facendo letteralmente niente perché oggettivamente così secondo me è stata una bella batosta si domanda allora domanda manuel sessa si ti chiede attualmente un vice andano vic come si deve come si come dovremmo cominciare a cercarlo c'era scritta male si è scritta ma diamo la colpa la regia regia dai assolutamente si dovremmo cominciare a cercarlo è bravo ma l'età avanza anche per lui ma assolutamente sono d'accordo andanovic è un giocatore che ha fatto tantissimo in questi anni l'età c'è quindi è giusto e normale che l'inter inizi un pochettino anche a pensare a un dopo andanovic si pagla tanto di cragno di musso di meret insomma tutti i portieri molto validi musso ci ha fatto vedere di che parte hai fatto contro l'udinese il mio preferito diciamo che è cranio però anche musso è veramente un gran bel portiere anche lui non mi dispiacerebbe molto cranio non mi dispiacerebbe affatto domanda per camilla antonio ricciardi hai un genere di musica che prediligi ps sei bellissima grazie mille antonio e io ho gusti particolari c'è in realtà ascolto di tutto vado magari da eminem e commerciale però diciamo che da un po di anni che sono sul kpop e pop coreano e quindi pop coreano pop coreano cioè camilla ascolta il pop coreano mi canti un petto di pop coreano no no non sarai in grado ma è molto molto seguito il pop coreano sì e sta spopolando soprattutto a villa chiaviche casa mia sapere che camilla è di villa chiaviche frazione di ceziena è la chiavi che impatta il pop coreano domanda per me genzo wakabayashi wakabayashi ti chiede direttamente da tokyo ti chiede quale giocatore dell'estero bundesliga premier league vorresti all'inter a me piace tanto 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 mbappé però onesta e fantacalcio stiamo parlando ovviamente di cose che non succederanno mai dai costi in questo momento storico proibitivi per tutti non so neanche quanto può costare in questo momento mbappé però insomma parliamo di fantacalcio chi mi piacerebbe mi piacerebbe mi piacerebbe veramente tanto cristiano pitari o pitari non lo so io faccio schifo negli accenti secondo me è pitari domanda per camilla con il rinnovo di invaghi e con un ringiovanimento della squadra se fossi al posto di tare quale sarebbe il primo rinforzo adatto per le idee di gioco di simone in zaghi un giocatore che ti piacerebbe alla lazio che secondo te potrebbe andare bene per il gioco a me piace gosens ah gosens hai detto poco parliamo sempre di fantacalcio e secondo me è un giocatore che nel gioco di inzaghi potrebbe anche anche andare bene quindi non credo che se ne privega l'atalanta ma si ma se non pensi allo tempo andare di maligni perché lo tito e uno e quando già da tira un po di gioco fatelo bastare lo tito è uno che quando c'è da tirare fuori dei soldi si fa dei problemi no assolutamente non mai successo no ma il fiaggine 0 il fiaggine 0 fai con la domanda allora fabiano poltronieri ti chiede ti preoccupa la situazione societaria per il futuro dell'inter cessioni importanti acquisti di pochissimo valore grazie siete una bella coppia grazie per la bella coppia infatti facciamo questa rubrica insieme quando mi hanno chiesto con chi vorresti fare questa rubrica ci sono presentate belle claudia gerini melissa satta melissa satta ether parisi e lorella cuccarini io ho detto spateca voglio camilla e lei mi ha detto ma io non la voglio fare ma beh io voglio camilla quindi poi della fine la faccia in realtà voi vedete tutto sto sfondo ma io sono nel suo seminterrato la catena ai piedi adesso non voleva venire aiutatemi non sono preoccupato non sono preoccupato a livello economico non sono preoccupato perché insomma a questi bici partner che vogliono subentrare pare che abbiano ancora più soldi e soprattutto la mano più libera di suning che comunque deve seguire dei dicta governativi mentre invece bici partner essendo inglese ha molto più la mano libera la mia unica paura è quella di perdere del tempo perdere tempo nel senso che quando c'è un cambio di proprietà le strategie che abbiamo in questo momento insomma sono un pochettino più problematiche si parlava di stadio anche quindi immagino che arrivando poi anche dei nuovi discorsi avviati con lo stadio di chi c'era prima vanno un po falsi friggere magari arrivano dei nuovi hanno una nuova idea una nuova visione quindi la mia paura di perdere un pochettino tempo e non cogliere magari anche cose sul mercato che in questo momento magari potresti cogliere ma non le prendi perché sai che arrivano quei nuovi allora cosa dicono cosa pensano la mia paura è assolutamente quella di perdere tempo ultima domanda per te qual è il giocatore più scarso patrick stella salutiamo patrick qual è il giocatore patrick a proposito di patrick non so se si vede ma io c'ho i calcini di spongebob di patrick di spongebob in onore a patrick migliore amico suo migliore amico qual è il giocatore più scarso che hai visto con la maglia della l'acqua wallace wallace io non lo perdonerò mai poverino mi dispiace cioè mi ricordo e tra l'altro quella partita di cui parlavo prima che avevo saltato una verifica era lazio atalanta sono andata perdemmo 3 a 1 e praticamente tre gol presi per colpa sua quindi quando lui prendeva la palla nei piedi partiva dalla curva nord un fischio tremendo abissale si lo sentivi pure non so e va beh insomma con wallace ragazzi noi vi salutiamo vi ricordo che questo video andrà in onda anche sul mio canale youtube sotto potrete chiederci qualsiasi cosa vi risponderemo nella prossima puntata dei gemellati camilla mettiamoci in piedi mai facciamo la foto thumb mentre salutiamo mettiamoci così di spalle foto thumb così così ciao ragazzi